La campana è uno strumento musicale molto ma molto complesso. Già in passato, da anni, alla campana viene effettuato un test che viene definito lo spettro sonoro della campana, che non è altro che un'analisi di tutte le sue frequenze che musicalmente vengono definiti armonici. Fatto il test, la campana ci darà questo risultato. In questo punto qui, che è il punto più doppio di dove la campana viene colpita, verrà fuori la nota predominante. In questa zona qui avremo la terza minore, in questo altro spazio qui avremo la quinta giusta e nella parte alta della parabola avremo l'ottava acuta superiore. Quindi la somma di tutte queste frequenze che musicalmente vengono definiti armonici arriverà alle nostre orecchie e sarà definita la nota predominante, la prima.